E' bello a tutti ragazzi qui, è Corvina di Moessa, oggi siamo su Yandr Simulator, è un gioco d'assassini, si? Un gioco d'amore, un po' che parola, ma vaffanculo? Ok, in teoria, aspettate! Ecco, è una storia di una giovane ragazza che frequenta le medie, solo che... E' in liceo? Sentiamo la storia. E' un gioco d'amore, 35? E' un gioco d'amore, sì, lui! Vuoi chiedere lui? Cosa non? Io chiedere lui domani dopo le classi. Non posso farlo, non posso farlo. Devo muovere lui. Hey, Ohio! I will announce the new test today. The last test results were barely average. I started smoking when I became a teacher. If only I got paid better. I'm tired of studying. It's boring. I'm going shopping this weekend. Hi! Hello! I'm thirsty. I need a drink. Are you going to kill someone? Hi! You need something? She must be somewhere near the cafeteria or entrance. Did you watch the popular drama last night? at home night? He must be some music, I'm playing. I got a fool. I got my money. Is that my mom? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti